Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Sono Susi Dolci e oggi faremo una ciambella a braccio. Ci servirà farina, zucchero, uova, acqua, olio, rum, cacao amaro e lievito. Rompiamo le uova, versiamo lo zucchero e iniziamo a impastare. Aggiungiamo l'olio e aggiungiamo l'acqua e diamo una mescolata. Versiamo la farina, tutto in una volta. Aggiungiamo il lievito e mescoliamo. Versiamo metà impasto in un'altra ciotola. Aggiungiamo il cacao, mescoliamo. Nell'impasto dove abbiamo aggiunto il cacao, versiamo il rum. Mescoliamo bene. Ora versiamo gli impasti, casomai vi fate aiutare da qualcuno che deve essere metà nel giallo e metà nel marrone. Versiamo. Ora inforniamo a 180 gradi per 25-30 minuti. Questa è la mia ciambella a braccio. In cottura la parte bianca ha ricoperto un po' la parte scura. Ora la tagliamo. Questa è la mia ciambella a braccio. Spero che questo video vi sia stato l'ispirazione. Se la fate, inviatemi le vostre foto su Instagram. Sono Susi Dolci. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e condividere le mie ricette. Ciao a tutti e alla prossima videoricetta.